la zucca continua a crescere ho messo una piccola cassettina perché se urta con il terreno la parte sotto non si matura bene invece così la parte sotto è areggiata sì sì che cresce allora vediamo qui qui non ci sono e qui sono in crescita altre zucche queste non so questo per 50 giorni sarà una matura ecco le altre zucche e anche qui c'è una serie di fiori se ci sono fiori ogni fiore deve produrre una zucca però però adesso non ci sono forse tra 15 giorni ma ce l'hanno altre zucche